Chiara Maci al quinto mese di gravidanza Chiara Maci è al quarto mese di gravidanza. . La popolare food blogger, molto seguita soprattutto su Instagram, racconta ogni giorno la sua professione e mostra ricette buonissime e di ogni livello di difficoltà, ma da un po di tempo si lascia anche andare a confessioni private. . Su tutte, ovviamente, la notizia della sua seconda gravidanza. Dopo Bianca, un altro bambino è in arrivo, si chiamerà Andrea. Il messaggio di Chiara Maci. . Un bel racconto quello di Chiara Maci, raccontato a corredo di una delicata foto postata su Instagram in cui si vede la mano di Bianca che tocca, con la sua, il pancino dove cè il bimbo che verrà, il piccolo Andrea. . Lascio Bianca a Bologna dai nonni qualche giorno e torno con le polpette di mia madre in borsa. Perché arrivi tardi a Milano, almeno hai da mangiare. . . Spero un giorno di fare lo stesso per i miei figli. Perché nulla ti fa sentire amato come tornare a casa dalla mamma e avere sempre un piatto pronto anche per te. . . Come se non fossi mai andato via. Come se i tuoi genitori ti aspettassero sempre. Anche quando non vivi più nella stessa casa, anche quando cresci e torni poco spesso nella loro città. Perché diventi grande ma resti piccola per qualcuno. . Ed è così bello, ogni tanto, sentirsi piccoli. Ha scritto un post quando aspettavo Bianca, quattro anni fa. Si intitolava Tornate piccoli, se potete. E lo riscrivo oggi. Tornate piccoli per imparare ad essere grandi. La relazione con Filippo Lamantia. . La cucina, la sua passione. Una passione determinante anche per lamore visto che Chiara Maci vive da un anno una love story con Filippo Lamantia, famoso chef. Per loro è il primo figlio in arrivo, ma Chiara Maci è già mamma di Bianca, nata nel 2014 mentre Filippo è papà di Carolina, 9 anni. . Filippo Lamantia e Chiara Maci convivono insieme da un anno, attualmente sono impegnati presso il Coast Coast Festival, che si tiene a San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani. Lavoro e amore, tutto in cucina, che forse situazione migliore possibile? . .